Eccola qui la Golar Tundra, il rigassificatore di quasi 300 metri di lunghezza e 40 di profondità che arriverà a Piombino nella primavera del prossimo anno. In questo momento sta navigando nelle acque di Taiwan. Sarà posizionata nel porto nuovo, poco distante da quello che ospita i moli dei traghetti. Rimarrà lì per un paio d'anni ad accogliere le grandi navi che porteranno il gas naturale liquefatto. Due ore il tempo stimato per le operazioni di scarico prima che le navi riprendano il largo. La Golar Tundra, attraverso un sistema di raffreddamento, riporterà il gas allo stato gassoso, riversando in mare l'acqua fredda che è servita allo scopo. Un sistema assicura la SNAM che si occuperà delle operazioni ecologicamente più sostenibile rispetto al cosiddetto sistema chiuso. Il gas trasformato verrà poi immesso nella rete nazionale attraverso un tubo di 8 km che verrà realizzato sotto il fondale marino verso la terraferma. La Golar Tundra consentirà di coprire il 6,5% del fabbisogno nazionale di gas. I dettagli sono stati spiegati dai tecnici della SNAM durante il primo incontro congiunto tra i sindaci del territorio, l'autorità portuale e il presidente Gianni, che è stato nominato dal governo commissario per il rigassificatore di Piombino. La Golar Tundra resterà il solo rigassificatore presente nel Golfo di Folloni, che è stato infatti escluso che venga sostituita in futuro da una piattaforma offshore simile a quella che si trova davanti a Livorno. La prossima settimana verrà presentata l'istanza di avvio dell'Iter, dopodiché ci saranno 120 giorni per il rilascio delle autorizzazioni. Un tempo breve e volutamente stabilito dal governo per velocizzare i tempi e rendere l'Italia energeticamente autosufficiente il prima possibile.